Ciao a tutti da The Beach Doctor, video su come interpretare l'ecografia del ginocchio. Sapete che come sempre, prima di andare con la checklist che è un po' l'ordine che io seguo per cercare di controllare tutti gli elementi e non perdermi nulla per strada, vi parlo un attimino delle indicazioni, perché questo è un video che dovrebbe far parte di una triade in cui parleremo anche di RX e di risonanza, e quindi la prima cosa è quando fare l'ecografia del ginocchio, in modo che se ci arriva un paziente richiedendo l'ecografia del ginocchio, fin dall'inizio noi siamo in grado di fare le domande corrette, di inquadrarlo correttamente e di capire se questo può essere un esame davvero utile o no, perché è molto importante che noi siamo chiari con i pazienti, nel senso che loro arrivano con un problema, tenenzialmente a fare l'esame, e vogliono una risposta. Se riteniamo che sulla base del quadro clinico, di quello che sta succedendo, di quello che stiamo cercando, l'esame non sia appropriato, è opportuno che lo indichiamo al paziente, in modo che gli sia chiaro che noi non stiamo mettendo in dubbio la sintomatologia che accusa e per cui arriva, non stiamo dicendo che non c'è niente, stiamo dicendo che l'esame eseguito è un esame non appropriato, che quindi non è in grado di dare l'informazione richiesta. Partiamo da due diapo, che sono uno schemino riassuntivo che mi sono permesso di fare, riprendendo i criteri di appropriatezza degli esami relativi al ginocchio dell'American College of Radiology sul trauma acuto e sul dolore cronico. Vedete che sul trauma acuto, tendenzialmente, il primo step è addirittura nessun imaging se ho il trauma, che sia esso distorsivo o diretto, senza però una sintomatologia. Quindi se io prendo la botta ma non ho niente, c'è una scarsa indicazione, infatti l'ho scritto più in piccolino all'RH ginocchio, ma di per sé non è necessario ricorrere all'imaging. Viceversa, se c'è una dolenzia focale, se c'è un'effusione, se c'è una limitazione al movimento, l'esame cardi nel primo step fondamentale resta sempre e comunque la radiografia del ginocchio. Quindi il paziente che arriva a fare l'ecografia senza aver eseguito la radiografia del ginocchio è un paziente che ha perso un passaggio e nel quale di conseguenza rischiamo di commettere degli errori nella nostra valutazione ecografica. Questo deve essere molto chiaro a noi e al paziente. Nel momento in cui la radiografia risulti negativa, ma resti negativa appunto, abbiamo stabilito che il problema non è un problema di natura ossea e di conseguenza poi ci sarà tutta una valutazione da parte dell'ortopedico che andrà a capire se ci può essere un problema di natura tendinea o legamentosa associata a meniscale, cartilaginia, quel che è, però abbiamo escluso l'osso. Ovviamente se resta però il sospetto di frattura interna magari composta o comunque di altro, l'esame cardine non è tanto l'ecografia quanto la risonanza magnetica che diventa non più un esame emergenziale che è un esame che faremo magari dopo anche una quindicina, ventina di giorni dal trauma in acuto perché? Perché diamo il tempo all'edema di riassorbirsi almeno parzialmente e fare in modo quindi di rendere maggiormente sensibile la metodica a quelle che sono eventuali alterazioni di piccole dimensioni? In seconda battuta può trovare indicazione all'attacca del ginocchio. Penso al paziente che non può eseguire la risonanza, per esempio, penso al paziente in cui sospetto che il problema sia di natura ossea soprattutto, cioè se mi aspetto una frattura ingranata, per esempio, forse l'attacca è migliore rispetto alla risonanza, per quanto comunque anche in risonanza magari ci siano dei segni diretti o indiretti che mi permettano di vederla. Se invece la radiografia individua una frattura, in particolare nel piatto tibiale, c'è una frattura tipo da avulsione e via dicendo, si farà una valutazione eventualmente artroscopica direttamente, insomma comunque l'imaging radiologico in quanto tale non ha un ruolo primario, può averlo ma non è primario. Se invece c'è la frattura del piatto tibiale, attenzione perché lì sospettiamo che ci sia un casino, letteralmente, e di conseguenza si passa alla risonanza e o all'attacca. Se invece parliamo di ginocchio atraumatico, quindi di gonalgia traumatica, tendenzialmente il primo step, indovinate un po', resta comunque la radiografia del ginocchio. Quindi se ho una patologia di ginocchio si parte sempre con la radiografia e non con l'ecografia. Questo deve essere chiaro. Radiografia che deve essere vista, poi ricordiamo sempre anche questo, cioè se il paziente ci dice se ho fatto la radiografia non mi hanno visto niente, ci accontentiamo? Assolutamente no, vogliamo rivedere la radiografia prima di fare l'ecografia per cercare eventuali segni indiretti, perché mettiamo che sia stata data negativa una radiografia, ma andando a vederla, questa radiografia qua, per esempio, ci mostra che il recesso sovrarrotuleo è abitato. Qui normalmente dovremmo vedere una zona radiotrasparente, che è data dal tessuto adiposo, che sta praticamente dietro all'inserzione del tendine del quadricipite a livello patellare, ed è dove c'è il recesso sovrarrotuleo, che di per sé è virtuale, quindi resta appiattito e davanti al grasso. Nel momento in cui però il recesso sovrarrotuleo è abitato da liquido, ecco che aumenta la radiopacità della zona e mi sposto per farvelo vedere, come indicato dalle freccette, vediamo quasi un ovale in quella zona lì. Se guardiamo poi anche il corpo adiposo di offa, volerla dire tutta, anche lì è una zona francamente radiotrasparente, adesso ve la ingrandisco solo per farvela vedere meglio. In realtà è un po' imbibita, soprattutto qua, sia nella porzione posteriore che nella porzione anteriore, in corrispondenza di dove ci dovrebbe essere il tendine rotuleo. E di conseguenza qua vuol dire che qualcosa c'è, ok? Non è un ginocchio particolarmente artrosico, sì, un po' sì, diciamocelo, perché ad esempio guardate qua il polo rotuleo superiore come appuntito, avete capito perché vi dico non è scontato, ho fatto la radiografia, non c'è niente. Bisogna vederla perché poi in realtà alla revisione ci accorgiamo anche di altre cose che ci vanno a indirizzare su qual è l'esame migliore. Infatti se c'è una distensione dei recessi, attenzione perché il percorso può prendere strade completamente diverse. Diciamo che l'American College of Radiology ci consiglia prevalentemente la risonanza. Ma perché lo fa? Vi ricordo che negli Stati Uniti, uno, l'ecografia non è eseguita dal medico ma dal sonographer e poi il medico radiologo, cioè il radiologist, sta al computer e vede delle immagini statiche. Sapete, soprattutto per chi ha fatto ecografia, invece, quanto sia importante eseguire l'ecografia. Farla anche perché, soprattutto per quella che è la muscoloscheletrica, quindi in particolare, ad esempio, del ginocchio, stiamo parlando, parlare col paziente, capirne la sintomatologia, capire dove ha male, capire quale tipo di movimento, eseguire un esame eventualmente dinamico, quindi fargli fare un movimento che richiama il dolore per cui si lamenta, per vedere il comportamento delle strutture muscolotendine collegate, è fondamentale per porre diagnosi. Per cui l'ecografia, io qua ve l'ho messa con l'asterisco, perché? Perché se voi andate sulle linee guida della CR, dice che può essere consigliata, maybe appropriate, scrive, e soprattutto, tra parentesi, ci scrive discordanza tra i membri del panel, perché è una consensus conference, cosa vuol dire? Hanno chiamato i maggiori esperti americani di muscoloscheletrica e gli hanno chiesto, tu in questa situazione che esame faresti? E su questo è stato discordanza. Io sono convinto che ci sia discordanza, perché in America l'ecografia è molto sottovalutata rispetto all'utilizzo che ne facciamo in Europa, quindi in realtà può avere assolutamente un senso l'ecografia del ginocchio in un quadro del genere. Forse più della risonanza, almeno in fase iniziale. Poi ci saranno sicuramente dei casi di ecografia particolarmente complessi, in cui scontrerò una serie di lesioni, una serie di lesioni associate, tali per cui mi viene da dire, ok, il problema sembra molto più grave, per cui è opportuno fare la risonanza, perché è più panoramica, mi fa vedere tutto. Così come ci sono altrettanti esami, forse anche di più da un punto di vista percentuale, in cui l'ecografia ci risolve tutto, perché rispetto alla risonanza comunque ha la capacità di dimostrare molto meglio la struttura fibrillare delle strutture tendine, e quindi se sto cercando una lesione di basso grado è sicuramente più efficace, ovviamente se fatta da chi ha l'occhio, chiaramente. Però vedete che, dicevo, con la distensione dei recessi abbiamo tutta una serie di altre strade che vanno anche dal lago centesi, quindi lo svuotamento letteralmente del recesso, ha un'eventuale età ginocchio, un altro RM, un altro TC, o addirittura l'esecuzione di un RX anche di un RX lombosacrale per la valutazione del motivo, cioè magari il ginocchio è una cosa riflessa di problemi che ci sono a livello dell'anca o a livello lombosacrale. Chiaramente la scelta del percorso da tenere in questo caso dipende dalla valutazione, che sarà una valutazione di tipo ortopedico e o di tipo fisiatrico. Diciamo, forse in questo caso più fisiatrico che ortopedico, così di primo acchito, perché vedendo la radiografia, in questo caso la specifica radiografia dimostrava una discreta osteoartrosi, anche di grado 3 io la definirei, tale per cui probabilmente lo step è ortopedico, ortopedico risonanza, pensando a qualcosa che possa essere meniscale, soprattutto se è stato fatto un RX ciotocarico, che dimostra il problema meniscale. Però se non ci fosse quella significativa artrosi, forse la prima valutazione sarebbe invece fisiatrica. Se invece l'RX ginocchio è positivo, attenzione come ci comportiamo? Se vediamo solo artrosi o condrocalcinosi, di per sé non c'è una significativa indicazione a proseguire con l'imaging e c'è soltanto una debole indicazione alla risonanza del ginocchio. Perché questo? Perché da un punto di vista terapeutico, se c'è un'artrosi, un osso artrosi di grado 4, quindi avanzata, che richiede il posizionamento di una protesi femorotibiale, l'imaging di risonanza ci aggiunge qualcosa che ci fa cambiare il percorso? No, perché viene posizionata la protesi, se ci sono problemi a livello legamentoso o tendinio, vengono corretti in corso di intervento. Ovvio che per l'ortopedico può essere un po' un, voler dire, programmo prima, guardo quali sono i problemi per capire quanto tempo mi servirà per l'intervento, cosa dovrò fare il preciso, ma non è strettamente obbligatorio, nel senso che in realtà una volta che si è sul tavolo operatorio si può tranquillamente procedere con anche eventuali altri interventini, altre piccole correzioni laddove è necessario. Per cui, clinica più imaging RX, in un quadro di artrosi avanzata, non richiede un imaging secondario, può richiedere la risonanza del ginocchio, per cui può essere appropriata. Se invece abbiamo problemi di altro tipo, cioè una pregressa lesione ossea di tipo importante, come ad esempio può essere una frattura di secondo, una volsione della spina tibiale, che quindi ci dà l'idea che ci sia stato qualcosa di legamentoso che è saltato, ecco che la risonanza del ginocchio è la regina, ok? Perché comunque se c'è una frattura di second, sospetto una frattura, sospetto una lesione del legamento crociato anteriore che è associata nei tre quarti dei casi, se sospetto la lesione del legamento crociato anteriore con second, molto probabilmente c'è anche una lesione del legamento crociato, del legamento collaterale mediale, ci possono essere dei focolai di contusione dematose a livello osseo, insomma ci possono essere numerosi problemi associati. Se c'è l'evoluzione della spina tibiale, anche in questo caso si aspetta un problema a livello del legamento collaterale, medialo laterale che sia, e di conseguenza anche tutta una serie di altre cose associate con le strutture adiacenti, che poi vedremo in corso di questa chiacchierata. Se invece ho la presenza di corpi liberi, loose bodies, un osteocondrite dissecante, un progresso intervento di menisco o di cartilagine, anche in questo caso la regina resta la risonanza del ginocchio, può trovare indicazione la TC del ginocchio laddove l'RM non si possa eseguire, può trovare l'indicazione l'artro RM o l'artro TC nel caso in cui vogliamo uno studio più approfondito. Ci usa raramente, devo dire che insomma per quel che ne so io, per la mia esperienza, per quel che vedo sul lavoro, l'artro RM si usa molto per la spalla, perché c'è tutto un filone di lesioni del cercine glenoideo che vengono ben dimostrate da questo esame qua, mentre sul ginocchio molto meno. Alla luce di ciò, quindi voi direte, Manuel, ma tu adesso ci hai fatto vedere due diapositive in cui l'ecografia del ginocchio nella prima non viene neanche nominata, nella seconda con l'asterisco perché non c'è accordo, allora perché dovremmo imparare l'ecografia del ginocchio? Perché poi in realtà nella pratica clinica vi capirà un sacco di volte che i pazienti arrivino con richieste più o meno proprie per la valutazione del ginocchio in ecografia. Perché? Perché si fa prima, perché magari non vogliono fare la risonanza, perché è più accessibile, per un sacco di motivi, perché tante volte comunque il paziente guarda l'esame che fa prima, non gli interessa tanto la correttezza del percorso e tante volte arriva per conto suo. Quindi è importante, per questo vi dicevo, che noi chiariamo l'idea dei pazienti quando ci si presentano. Allora io cosa ho fatto? Dopo aver fatto queste due diapositive sono andato su Google, magari stringo la finestra perché vorrei farvela vedere, e ho scritto nella barra di ricerca, eccolo qua, New ultrasound indication e sono rimasto abbastanza stupito dal fatto che in realtà non esista un documento ufficiale facendo una ricerca, cercando nelle prime due, tre, tre pagine, che ci dia delle indicazioni precise per questo tipo di esame. Per cui io ho aperto il primo risultato che è PubMed, che insomma lo consideriamo una buona fonte, e guardate un po', il primo articolo che troviamo è del 2001. Per cui in realtà ad oggi non abbiamo, almeno io non ho trovato, e se voi ce ne avete indicatemele, che così le rendiamo pubbliche, ne parliamo un po', non abbiamo delle linee guida univoche che ci dicano quando l'ecografia può essere utile. Allora ci affidiamo al buon senso, tra virgolette. Cioè, l'ecografia tendenzialmente quando la facciamo? La facciamo se vediamo l'effusione a livello articolare, ma questo l'abbiamo detto, è l'unica cosa che avevamo detto. La facciamo se sospettiamo l'ispessimento sinoviale, una raccolta fluida bursale, la presenza di corpi liberi intraarticolari, cisti ganglionari, valutazione di lesioni di legamenti e tendini, tendiniti e fratture occulte. Allora, io sui fratture occulte, devo dire la verità, ho un po' di perplessità, ma per il resto sono abbastanza d'accordo, nel senso che alla fine l'ecografia si viene molto buona per valutare tendini e legamenti, sicuro. Vedere le borse per vedere se sono distese da un punto di vista fluido, anche questo sicuro. Valutazione dei nervi, che qua non è scritta, però può essere interessante, soprattutto se si aspetta una nevralgia, chiaro, che di solito però, in realtà, magari riguarda il tunnel carpale, quindi il nervo mediano, meno spesso riguarda il nervo ulnare, meno spesso riguarda i nervi di gamba e di ginocchio, però può succedere, quindi sapere che esistono e sapere che questa è un'indicazione è importante, e vi dirò che una modica valutazione dei crociati anteriore e posteriore e dei menischi si può fare, chiarendo al paziente che quello che noi vediamo è una cosa parziale. A questo punto io direi che possiamo finalmente partire con la checklist di refartazione. Io la ecografia del ginocchio la divido in quattro step, che sono i quattro comparti, anteriore, laterale, mediale e posteriore. Mediale, laterale e posteriore, vabbè, insomma, mediale e laterale, fate nell'ordine se volete. Partiamo col ginocchio anteriore. Paziente colicato, pancia in su, piega il ginocchio di 30 gradi. Se è un paziente collaborante, vi fate puntare il tallone sul lettino in modo che tenga il ginocchio piegato. Se ha già dolore, fatica a fare questa cosa qua, potete tranquillamente prendere un asciugamamino, piegarlo, arrotorarlo su se stesso, fare un rotolino e ficcarlo sotto il ginocchio. O alternativamente, se avete il rotolo di carta del lettino, ne avete uno in più, lo ficcate sotto il ginocchio, è che è molto lungo e quindi vi potrebbero rompere un po' le scatole. La cosa che ci importa è che il ginocchio sia piegato indicativamente in modo tale che l'asse femorale compia un angolo di 30 gradi rispetto all'asse tibiale. Non state lì con il goniometro più o meno piegato. Ecco, ci siamo capiti. Tanto questo è chiaro. Cosa andiamo a valutare quando valutiamo il comparto anteriore del ginocchio? Valutiamo sette categorie. Partiamo dal tendine del muscolo quadricipite, che è la cosa più facile. Posizioniamo la nostra sonda, che è una sonda lineare, è chiaro, perché stiamo guardando cose superficiali, quindi vogliamo frequenze alte, dagli 8 MHz in su. Posizioniamo la nostra sonda in verticale, al di sopra della rotula e corrisponde a questa A qua. Quindi la sonda è messa in verticale sopra la rotula. E così facendo, in A, vediamo questo. Cioè vediamo il tendine del muscolo quadricipite. Lo vediamo moltistrato. Perché? Perché sono i vari capi del tendine del quadricipite che vanno a fondersi tra di loro. Quindi se state più in alto, vedete, nero, striscetta bianca, sottile, 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 sottile. Ipoecogeno, nero, vabbè dai ci siamo capiti, vero? Quindi tendine ipoecogeno, sottile fascia lineare iperecogena, che mi rappresenta il passaggio al secondo tendine. Stessa cosa secondo tendine, paripoecogeno, fascetta bianca, linea bianca iperecogena, che me lo separa dal terzo fascio. Quindi i vari fasci dei ventri muscolari del tendine e del muscolo quadricipite si uniscono tra di loro, si offondono, per andare poi a inserirsi a livello del polo rotulio superiore, a livello patellare. Ve lo scorrete così fino a arrivare alla patella, fino a arrivare alla rotula, ruotate la sonda di 90 gradi, la mettete in orizzontale, quindi in b, e risalite, quindi dal basso tornate verso l'alto, seguite l'inserzione, seguite il tendine, vedete che si va a diramare poi nei vari, nelle sue varie componenti e raggiunge i vari ventri muscolari, ok? Quindi qui ad esempio, che siamo belli alti, vediamo il vasto mediale, il vasto laterale e praticamente il passaggio dell'aggiunzione mio-tendinea. Vi invito sempre, l'abbiamo imparato nella eco parti molli, parte 2, se ve lo siete persi andate a rivederlo, l'aggiunzione mio-tendinea è sempre una cosa a cui dovete prestare particolarmente attenzione, questo è particolarmente vero. Nella eco del quadricipite, perché? Perché è un muscolo di quelli maggiormente coinvolti, è biarticolare, è coinvolto nei movimenti rapidi, ha molte fibre 2B, quelle twitch type, quindi è un tipo di muscolo che tende a lesionarsi particolarmente quando abbiamo dei stress in accelerazione ed accelerazione con cambio di direzione, con più della metà di casi di danno che avvengono proprio a livello dell'aggiunzione mio-tendinea. Quindi importante la valutazione in quel punto, soprattutto se il paziente arriva lamentandosi per questo tipo di dolore, per questa zona di dolore, e vi racconta di un trauma in questo tipo qua. Vi ricordo, come sempre, prima di partire dell'esame, ascoltate il paziente, fate la domanda, come mai facciamo questa ecografia? Cosa è successo? Indagate le tempistiche, cercate di capire da quanto tempo lamenta il dolore, se è stabile, se è instabile, se c'è, se non c'è, se va via, se risponde agli antidolorifici, perché questo vi dà un importante inquadramento. Valutazione dell'RX, secondo step, terzo step, partite con l'ecografia. E abbiamo detto, settore anteriore, prima cosa da fare? Tendete il muscolo quadricipite. Quando state quadrando il quadricipite, se poi andate in profondità, riuscirete a vedere anche il recesso sovrarotuleo. Allora, tipicamente in questa immagine qua sopra, questa qui l'abbiamo appena riconosciuta, è la sonda messa in verticale, quindi da come siamo partiti, vediamo la rotula, vediamo il femore al di sotto, questo bianco qua che vediamo sopra la rotula, al davanti del femore, è il cuscinetto adiposo sovrapatellare, normale che ci sia, ok? Questi qui con l'asterisco, che rappresentano quest'area anecogena, quest'area anecogena è un minimo di film fluido. Se lo vedete, questo qua è parafisiologico, nel senso che una quantità esigua di liquido nel recesso sovrarotuleo, io me lo aspetto sinceramente, perché comunque è un tipo di articolazione che è soggetta a stress, a sforzi continui, quindi che ci sia un minimo di fluido che permette anche di fare in modo che non ci siano attriti, è normale. Ovvio che se vi vedete, adesso poi ve lo apro magari, una quantità di effusione molto più importante, ecco che questa va segnalata. Dalla vostra posizione verticale in centro, vi spostate poi con la sonda verso destra e verso sinistra, cioè laterali e mediali a seconda del ginocchio che state valutando, per vedere i recessi mediale e laterale, para rotulei cosiddetti, ok? In teoria, se voi vedete un minimo di liquido centrale, ma poi qui vedete una linea proprio, un'opacità, una banda lineare anecogena al davanti del femore, ok, quello lì è il recesso o mediale o laterale, secondo dove siete, qua nell'immagine ad esempio siamo mediali, che è virtuale, cioè il due, questo sacchetto, cioè un minimo di fluido in mezzo tra i due foglietti, che fa sì che si formi quella banda anecogena, ma non è un problema, è fisiologico. Se invece mi sposto e vedo molto più fluido rispetto alla zona centrale, ok, vuol dire che c'è un versamento e che è un versamento che si è disposto soprattutto da un lato o soprattutto dall'altro, ok? Vi può aiutare per la valutazione chiedere al paziente di aprire leggermente la gamba rana o chiuderla leggermente, quindi spostare il ginocchio verso l'interno. Però di solito i recessi sovrarotulei riuscite a valutarli anche senza far muovere la gamba, sinceramente. Il retinacolo rotuleo altro non è che praticamente l'insieme di queste strutture, quindi del recesso, mediale o laterale che sia, e a livello mediale ci può essere anche il legamento patello femorale, che è questo che vedete un po' più in sopra. Sono finezze, eh? Ok? Vi volevo far vedere un quadro patologico. Zoomo l'immagine, poi il link, come al solito, ve lo lascio nella descrizione del video. Vedete che qui abbiamo la patella, questo qui è il tendine del quadricipite, questo qua è il nostro femore, questo qui è il grasso, scusate, questo è il cuscinetto pararatuleo, cuscinetto adiposo pararatuleo, questo è quello adiposo presemorale. E qui abbiamo un'effusione a tutti gli effetti. Peraltro, attenzione, in questo caso qui è un'effusione che molto probabilmente c'è da un bel po' di tempo. Perché? Perché vediamo che il profilo della borsa presenta un aspetto mammellonato. Questa mammellonatura, che ancora di più apprezziamo in questo caso qui, che è un caso diverso, ci sta dicendo, guarda, che questo fluido è qui da talmente tanto tempo, che sedimenta una parte corpuscolata, resta attaccata alla superficie della borsa e via dicendo, potete mettere il Doppler, in teoria non vedete segnale a tale livello, ma ci sta dicendo che il problema è un problema che gli dà tanto tempo. Ecco, questo è il punto. Oppure che c'è stato un emartro precedente, ma anche qua dipende dalla storia, cioè se il paziente viene perché ha avuto una frattura di second consolidata, che ne so, di un tot di tempo fa, ecco che magari penso al emartro. Ancora una volta l'Rx svolge un ruolo fondamentale nella nostra valutazione preliminare. L'altro consiglio che mi sento di darvi è che quando valutate il tendine del quadricipite, ma in generale tutti i tendini che farete nel corso dell'ecografia, piazzate sempre color Doppler e power Doppler molto velocemente. Perché magari ci sono fenomeni tendinosici o tendinitici di grado molto lieve, non vedete versamento attorno al tendine, non vedete alterazione dell'ecostruttura, ma magari vedete un incremento del segnale. Ovviamente vi guida sempre, ripeto, anche la clinica. Cioè se il paziente vi dice, viene perché c'ha male appena sopra il ginocchio, quando utilizza il muscolo quadricipite, il dolore aumenta e tutto, penso a fenomeni a carico del tendine del quadricipite. Diciamo che è poco probabile che ci siano dei fenomeni di natura cronica, senza alterazioni poi dell'ecostruttura, ma soltanto alterazioni della vascolarizzazione. Comunque, siccome non ci costa niente schiacciare il tastino, facciamolo e vediamo anche la vascolarizzazione del tendine. Va bene? Quindi abbiamo guardato il tendine del quadricipite, abbiamo guardato recesso sovrarotuleo e pararotulei e retinacolorotuleo, quindi insieme anche a delle strutture di pose adiacenti. A questo punto passiamo alle ultime cose da fare, cioè guardare la cartilagine articolare femorale, il tendine rotuleo e le borse anteriori. Allora, il tendine rotuleo lo valutiamo prima in realtà rispetto alla cartilagine e le borse. Cosa fa? Almeno io vi consiglio per iniziare. Quindi cosa faccio? Con la sonda, guardate questa immagine qua precisamente, con la mia sonda in verticale scendo sotto la rotula, perché sappiamo che il tendine patellare, o rotuleo, dite come volete, si attacca alla patella, il tendine alla porzione inferiore della patella e raggiunge poi la tibia. Quindi me lo seguo al pari del tendine del muscolo quadricipite, me lo guardo prima sull'asse lungo, poi ruoto la sonda, mi metto in orizzontale, lo seguo sull'asse breve, ne controllo dimensioni ecostruttura, presenza di liquido attorno, ne controllo e segnala il controllo color Doppler e sostanzialmente cosa dovrei vedere? Spende. Allora, attenzione. Normalmente questo è un tendine assolutamente normale, anche in questo caso la freccina è per farvi vedere che c'è una borsa infrapatellare profonda, quindi una minima quantità di fluido a tale livello, non ci deve preoccupare, non ci deve intensierire, qui lo vedete sull'asse lungo, invece questa immagine qui è l'asse breve del patellare. Qui vi ho messo un'immagine patologica per farvela vedere, ma in realtà non tanto del tendine, cioè la paziente in questo caso arrivava perché aveva il ginocchio particolarmente gonfio. E cosa succede? Che facendo l'ecografia, qui vedete che c'è tutto questo nero sopra perché è stato messo il distanziatore, ne abbiamo parlato nelle ecoparti mogli, andate a recuperarvelo, nella parte 1, nella primissima parte, nei primi 15 minuti di discussione, se non sapete di cosa sto parlando, fatto sta che il tendine rotuleo qua, lo seguiamo perfettamente, al davanti abbiamo la presenza di fluido e di spessimento del sottocute, ok? Quindi attenzione a non farci ingannare, perché a volte il problema non è profondo, ma è estremamente superficiale, quindi questo per dirvi che non sempre il problema è di natura osteoarticolare, tendine o muscolare, ma può essere anche dei tessuti molli, ecco, e abbiamo imparato ormai che sono una grande categoria, una grande scatola di cioccolatini alla Forrest Gump, queste cose. Quando avete valutato anche il tendine rotuleo, chiedete al paziente o alla paziente di piegare la gamba al massimo che può, quindi di avvicinare il tallone il più possibile al sedere. Alcuni avranno molto male, altri meno. Perché fare questo lavoro? Per due motivi. Il primo, ecco, potrete valutare molto bene la troclea, potrete vedere se la troclea funziona correttamente, quindi se il tendine quadricipite scorre nel solco trocleare, questi due asterischi qua vi rappresentano la cartilagine articolare, quindi potete anche valutare lo spessore cartilagine articolare femorale ed è abbastanza importante. Quindi cartilagine articolare abbiamo detto, tendine rotuleo ve l'ho fatto vedere, borsa anteriore ve l'ho fatta vedere. L'altra cosa che possiamo valutare, che non l'ho scritto in checklist ma l'ho fatto apposta, è il legamento crociato anteriore. Perché dico l'ho fatto apposta? L'ho fatto apposta perché il discorso è che, uno, io non riesco a valutare tutto il legamento crociato. Intanto, uno dipende dal macchinario, pardon, e dalla struttura fisica del paziente, nel senso che ci sono pazienti in cui facendo piegare completamente il ginocchio, appoggiando la sonda in verticale a livello al di sotto della troclea, noi vediamo praticamente la porzione finale di inserzione del LCA a livello della tibia. Dipende dalla frequenza della sonda. Diciamo che, per mia esperienza, con la sonda da 10, difficile che la viviate. Cioè, ci arriva da un punto di vista di profondità, il problema è che avete una risoluzione piuttosto scarsa. I macchinari più recenti, se avete un ecografo abbastanza nuovo, c'è un'ottima risoluzione e riesce ad andare parecchio in profondità anche con frequenze di 12-15 MHz, che diventano veramente ottimali per riuscire a valutare adeguatamente il crociato anteriore. Cosa che andiamo a valutare alla fine? Quando abbiamo fatto piegare il ginocchio, noi vediamo bene il corpo adiposo di offa, quindi il grasso che sta lì al di sotto, ve ne ho parlato anche prima, e peraltro deve avere l'ecogenicità del grasso, per cui valutiamo anche il corpo adiposo di offa per vedere se è imbibito da un punto di vista edematoso, se c'è del liquido all'interno, se appare più iperecogeno, più bianco rispetto al normale. Se siamo fortunati, letteralmente, quindi se abbiamo un paziente adeguato, un macchinario adeguato, riusciamo a farmi piegare bene il ginocchio e tutto, vedremo appunto l'inserzione, quindi vediamo il profilo osseo della tibia, che è questo, e che decorre, praticamente vi si appoggia il crociato anteriore fino a livello della sua inserzione. Non pensate di vedere i due fasci, che sapete che il crociato anteriore ha due fasci che si intersecano tra di loro, con un andamento diverso, quindi in risonanza, ad esempio, abbiamo quell'aspetto tra virgolette tigrato nella parte inferiore, e invece più omogeneo nella parte superiore, ok? Tutta questa cosa qua, in realtà, a livello ecografico non l'apprezzate, non c'è, ok? È vero che prima vi ho detto che con l'ecografia apprezziamo molto meglio la struttura fibrillare delle strutture tendine legamentose, ma questo è particolarmente vero per le cose superficiali. crociati, che sono profondi, è già tanto che lo vediamo e lo vediamo inserito. Quindi ne potete valutare lo spessore e l'inserzione. In questo caso, qua sotto, è un caso patologico, qui vedete il tendine rotuleo, qui vedete la tibia, qui vedete il femore, questa H sta per un po' di poso di offa, vedete come da un punto di vista ecostrutturale sia molto più disomogeneo di quello sopra, perché c'è dell'iperecogenicità, frammista ha una normale ecogenicità del grasso, qua sotto c'è del nero e attaccato al profilo tibiale, noi non vediamo un qualcosa che possa riferirsi alla struttura in questione, quindi al nostro legamento crociato anteriore. Ovviamente, consiglio di Zeomano è sempre quello, imparatevi due test di numero, cioè esiste il test del cassetto per il legamento crociato anteriore che è abbastanza specifico e sensibile. Quindi, se voi conoscete la dinamica del trauma, se voi conoscete i test e glieli fate prima, sapete se la valutazione del crociato anteriore in ecografia è importante, quindi se non lo vedo sia importante che lo mandiamo in risonanza, oppure se non è così importante, nel senso, ok, il test è negativo per una possibile lesione, la sintomatologia, l'anamnesi fatta al paziente non mi fa pensare che ci sia una lesione del crociato anteriore, non lo riesco a vedere perché è un paziente che ha il ginocchio grosso così, oppure lo piega male perché gli fa male, penso che ci sia una lesione del crociato anteriore nascosta, no, ok, questo è il concetto, anche se non l'ho visto, non lo penso. Beh, direi che già solo sul comparto anteriore abbiamo visto un bel po' di robe, allora a questo punto come ci comportiamo? Passiamo al comparto mediale, che grazie al cielo ha una checklist di rifertazione molto molto più breve perché è fatta da solo tre elementi, ma non pensate che sia facile. Allora, in questo caso, se dobbiamo metterci mediali, cosa facciamo? Facciamo in modo che il paziente apra a rana la gamba, quindi ce la sposti, lasciando sempre i nostri 30 gradi, preferibilmente, quindi per quello vi dicevo che la sciogamanino arrotolato è la sua, e lo apre verso l'esterno. Faremo la valutazione di che cosa? Del crociato, del collaterale mediale, del menisco mediale, della zampa d'oca. Allora, la sonda la appoggiamo qui a livello di A, quindi usiamo come riferimento la rotula, ci spostiamo verso l'interno della gamba e se stiamo al passaggio tra tibia e femore, qua sopra, vedremo un bel po' di roba. Intanto questo asterisco qua vi sta indicando proprio il corpo meniscale, che lo vediamo come un triangolino, che deve stare tra tibia e femore, in cui il profilo, che praticamente il profilo esterno del menisco è in continuità col profilo osseo della tibia e grosso modo anche col femore. Attenzione, perché qui non fatevi ingannare, vedete che c'è un piccolo avvallamento, è perché ci sono le strutture tendine, ok? È tutto normale. Tutto questo viene avvolto e viene stabilizzato dalla presenza del legamento collaterale mediale, che parte a livello femorale, decorre poi verso il basso, quindi molto spesso per seguirlo avete bisogno di muovervi un po', e va poi a inserirsi, accarezza il profilo esterno del menisco, accarezza il profilo tibiale e vi si inserisce. Se poi voi scendete e state in prossimità all'inserzione praticamente del collaterale mediale, andrete a trovare anche la zampa d'oca, che qui la vedete, aspetta che ve l'ingrascio per farvi apprezzare maggiormente. La vedete, ci può essere, vi può sembrare che ci sia un minimo di fluido a livello inserzionale, attenzione, perché può essere dovuto anche semplicemente l'anisotropia dei tendini, quindi questo è sempre un po' tricky come cosa da valutare, e se voi ve li andate a seguire con calma, vi vedete proprio i ventri muscolari e seguite i loro tendini che si uniscono. Adesso ve ne parlo meglio, però, così almeno non vi sbagliate. Intanto era solo per farvi vedere che noi abbiamo il nostro legamento collaterale mediale, poi caudalmente, praticamente adesso, abbiamo tutta l'inserzione della zampa d'oca, qui sui tre tendini, sartori o gracile e semi tendinosa. Vi stavo dicendo, come facciamo questa benedetta zampa d'oca, Manuel? Allora, abbiamo il nostro ginocchio piegato verso l'esterno a rana, a 30 gradi. Io vi consiglio di partire dall'alto, ok? Quindi, grosso modo, siete all'altezza della fine del femore, per capirci. E se vi portate molto internamente, dovreste riuscire a vedere in assiale un grosso ventre muscolare, che è quello del sartorio, ok? Perché dove voi mi arrivate qua, il semi tendinoso e il gracile magari sono meno visibili. Però il sartorio lo si vede ancora bene, per cui se voi riconoscete questo, poi vi diventa molto più facile orientarvi, ok? Quando avete trovato il sartorio, poi mano a mano scendete e vi ricordate che, guardate qua l'anatomia, i ventri muscolari e i tendini, questo qua è il sartorio, questo, ok? Seguono tutti questa morfologia a convessa, a parentesi, a banana, dite come volete. Quindi, mi seguo il tendine, mi seguo il ventre, mi seguo il ventre, mi seguo il ventre, arrivo al tendine. Lì vicino ci devono essere anche gli altri due tendine, adesso magari anche questa immagine qua ve l'ingrosso un attimo per farvela apprezzare di più. Guardate qua, qui iniziamo ad avere il legamento collaterale mediale e sopra, eccolo qua, il tendine del sartorio, questo è il gracile e questo è il semi tendinoso. Quindi, il mio consiglio è partite dal ventre muscolare del sartorio, soprattutto le prime volte quando non avete tanta esperienza, perché quello vi aiuta a seguire proprio il tendine. Se voi state sul sartorio, è facile poi, perché vedete la giunzione mio tendinea e poi seguite proprio il tendine, sull'asse corto e si fa. E sapete che mano a mano che scendete, appena più esternamente sulla vostra immagine, quindi appena più a sinistra, se avete messo la sonda correttamente, chiaro, dovreste riuscire a vedere anche gli altri due tendini. A quel punto lì, quando vedete i tre tendini e non vedete più ventri muscolari, siete evidentemente a livello tibiale, vi ruotate di 90 gradi, quindi la sonda che qua era praticamente in verticale, ok? Perché vi siete verticali. Ve la girate in orizzontale e vedete proprio tutto il tendine che si va a inserire. Quindi vedete proprio l'inserzione della zampa d'oca a livello tibiale, abbracciata dal legamento collaterale mediale. Se imparate a riconoscere il normale, diventa poi facile trovare il patologico, nel senso che quando siete lì, riconoscere che c'è il tendine, che è circondato da fluido, che c'è un incremento del segnale al color doppler, diventa tutto facile. Quindi ricordatevi che l'altra cosa importante è che a livello della zampa d'oca voi non avete borse, quindi non ci può essere un recesso che si distende, ok? Cioè, scusate, non avete la guaina sinoviale, pardon, lo stavo dicendo al contrario, non avete la guaina sinoviale, quindi se voi vedete liquido, questo qua è liquido da borsite, non può essere la guaina del semi tendinoso che si allarga, perché? Che viene distesa da fluido, perché questi tendini non hanno la guaina sinoviale, quindi la presenza di fluido ci sta dicendo che c'è una borsite a tutti gli effetti. Ok, passiamo al comparto laterale a questo punto, l'atteggiamento è lo stesso, cioè sempre il ginocchietto piegato a 30 gradi, stavolta glielo facciamo ruotare internamente, perché vogliamo ruotare bene l'esterno, quali sono le strutture che andiamo a vedere? In primis la bandelletta o benderella, ognuno è il tensore della fascia lata, ed è un tendine, aspetta che non mi vedete più, è un tendine che va praticamente sulla parte anteroesterna della tibia, a livello del tubercolo di Gerdi. Allora, voi avete come riferimento, cosa fate? Partite verticali, partite dove avevate il tendine del quadricipite, ok? Vi spostate perfettamente in verticale, a quell'altezza lì, all'inserzione del tendine del quadricipite, verso la porzione laterale del ginocchio. E quindi immaginatevi che la nostra sonda, vediamo se riesco a darvi un'idea, la nostra sonda quando guardava il tendine del quadricipite era qua, tollo, ruoto anche per darvi l'idea, ok, e l'ho letteralmente spostata per venire lateralmente al ginocchio. Vedete che siamo anche abbastanza indietro, cioè non abbiate paura, vi spostate indietro, indietro, indietro. Quali sono le strutture di riferimento che dovremmo vedere? Indovinate un po', tibia, femore, menisco. Chiaramente stavolta il menisco laterale, corpo del menisco laterale. E superiormente abbiamo la benderella eliotibiale. Dovreste trovare il tubercolo di Gerdi, che è questo qua dato all'asterisco, quindi vedete un profilo della tibia abbastanza orizzontale, comunque leggermente ondulato. E poi vedete proprio una bozzatura più importante, quello è il tubercolo. Consiglio, imparate, individuate bene il tubercolo di Gerdi. Perché? Perché il paziente che vi arriva con indicazione di sospetta sindrome della benderella eliotibiale, della bandelletta eliotibiale, è molto probabilmente affetta da questa cosa a livello dell'inserzione tibiale stessa. Ok? È sempre sull'inserzione caudale il problema. Raramente è a monte. Per cui ci interessa, da un punto di vista ecografico, non tanto valutare l'inserzione a monte, ma quella a valle. Per cui se voi sapete trovare il tubercolo di Gerdi, siete anche in grado di individuare l'inserzione e di vedere se ci sono problemi a quel livello lì. Quindi di vedere se c'è del versamento a quel livello lì, di vedere se c'è un incremento del segnale color doppler, di vedere se c'è un'alterazione delle costrutture, che è la solita costruttura fibrillare che ci aspettiamo da tutte le strutture tendinio-legamentose. Vi ricordo inoltre, qua segnalato da due asterischini, che la bandelletta decorre superficialmente al femore, ma in mezzo è separata da una borsa. Per cui se trovate del liquido sotto la bandelletta, davanti al femore, sapete anche in questo caso con la borsite, stesso discorso di prima, non può essere una guaina sinoviale distesa, ok? Così non prendete cantonate. Ok, dopodiché vi guardate il legamento collaterale-laterale, che in questo caso chiude l'articolazione sul versante laterale, la accoglie e fa in modo che il ginocchio non vada in instabilità nelle manovre in varo, nei primi gradi di flessione. Anche questo origine a livello femorale in sede posteriore e a livello di una depressione ossea, per cui è importante, solita immagine, menisco, tibia, femore, scusatemi. Vedete, iniziate a vedere anche la testa peroneale, in questo caso, questa F sta per fibula, e voi cosa dovreste vedere? Dovreste vedere il condilo femorale, quindi questo cicciottello. Poi una depressione, e la depressione è il solco del tendine popliteo, e superiormente a questa depressione troviamo poi il legamento collaterale-laterale. Nota bene, i legamenti collaterali, laterale e mediale, più il laterale addirittura del mediale, raramente sono lesionati da soli, quindi se ho trovato già degli inghippi nelle fasi precedenti, molto probabilmente trovo una lesione del collaterale-laterale. Se il collaterale-laterale è ok, scusate, se il collaterale-laterale non mi sembra ok, ma in tutto il resto del ginocchio non ho trovato problemi, attenzione, perché esiste il caso, sì, raro, quindi cerchiamo di capire se magari c'è stato davvero un trauma distorsivo in varo, per esempio, ma in caso contrario può essere che io stia prendendo una cantonata, ok? Tutto qua. Come al solito ne guardiamo lo spessore, ci mettiamo il Doppler, ne guardiamo l'ecostruttura, qui sopra ne vedete uno che è francamente lesionato, perché è marcatamente ipoecogeno, non è a morfologia regolare, qui è francamente spessito, ci vediamo dentro delle aree anecogene da lesioni parziali al suo interno, l'inserzione è conservata, quindi non è avulso, però è una lesione parziale di alto grado, perché qui è quasi interrotto per più del 50% del suo spessore e questo va segnalato. Il tendine poplito tendenzialmente invece lo vedete lì a livello della depressione che dicevamo. Poi, ho dimenticato di dirvi che la benderella e l'ultibale siete messi paralleli al tendine del quadricipite, molto laterali. Per vedere il collaterale laterale del tendine del quadricipite, cosa fate? Mi tenete ferma la parte alta della sonda, quella craniale, quella che sta verso la testa del paziente, e invece ruotate praticamente di 45 gradi, 50 gradi circa, la sonda, la parte caudale della sonda, in modo che questa punti verso il cavo popliteo, per capirci, e verso il tallone. E così vi valutate bene il collaterale laterale e il popliteo. Dopodiché tenete ferma la parte inferiore della sonda, stavolta, quella che punta verso il cavo popliteo e verso il tallone, e mi spostate la parte craniale della sonda ritornando praticamente dritti ma più indietro. Per cui avete fatto una zeta, per cui il comparto laterale, voi vi ricordate studiarlo come lo studia Zorro, perché avete fatto la zeta, no? Perché siete partiti orizzontali, poi così e poi così. Quindi avete fatto proprio una zeta. Quando siete alla parte inferiore della nostra zeta, cosa dovreste vedere? Dovreste vedere bene il menisco laterale, che lo intravedevamo prima, ma non lo vedevamo tanto bene quanto adesso, e dovreste vedere il bicipite femorale. Anche in questo caso, siccome parliamo di muscoli, il mio consiglio è partite eventualmente sempre un pochino più alti, in modo tale che voi vi cercate i ventri muscolari. E qua la sonda è messa in verticale, e vi sta facendo vedere con questi numeri, uno, cinque e tre, uno è il capolungo del bicipite, che poi prosegue nel suo tendine. Adesso qua è coperto dal colore, purtroppo, quindi non rende l'idea, però qui avete la solita struttura fibrillare, che poi andate del muscolo, quella un po' irregolare, dovuta all'anisotropia del muscolo stesso in ecografia. Mentre qui poi avete la struttura tendine con la struttura fibrillare classica. Cinque, invece, è il ventre del capo breve, e quindi avete capolungo sopra, capobreve sotto, il capobreve che poi mano a mano va a inserirsi e a fondere col tendine del capolungo, e al davanti del femore, ve l'ho detto anche prima, valeva per il collaterale laterale, vale anche per il bicipite femorale, abbiamo una borsa, questo tre qua, è una borsa che normalmente è virtuale, ma che può essere distesa da fluido, ok? Quindi vi guardate il muscolo, vi guardate il tendine, guardate la sua inserzione. Guardate il minisco laterale, ne abbiamo già discusso di come appare normalmente, quindi mi ci fermo relativamente poco, vi faccio vedere due casi patologici. Allora, qui abbiamo un minisco che è estruso, quindi vedete che il suo profilo esterno non segue il profilo della tibia, e che il collaterale laterale viene letteralmente improntato e spinto verso l'esterno, tendenzialmente va segnalato quando siamo sopra i 3 mm, dai 3 mm in su andrebbe segnalato. Se siamo sotto i 3 mm, lo devo segnalare, lo potete segnalare, dipende sempre dalla sintomatologia del paziente. Qui abbiamo un caso invece un pochino più grave, perché vedete che oltre al, magari all'occhio meno esperto, qua il minisco dice non è estruso, perché è in continuità con il profilo osseo della tibia. Sì, però, attenzione, guardiamo nelle costrutture, le costrutture è marcatamente disomogenea, qua addirittura fa una bozzatura, vediamo una zona ipoecogena all'interno. Questa qui è una lesione meniscale vera e propria, che è stata trovata in ecografia, succede spesso? No, ma succede, molto più spesso vedete delle meniscopatie croniche, quindi vedete che ne so che il menisco, anziché apparire così, viene molto molto più scuro per sofferenza cronica, e vi aiuta comunque il confronto anche col controlaterale, con quello del comparto controlaterale, con proprio il ginocchio opposto, se non siete particolarmente esperti nel riconoscimento del colore. Qui invece abbiamo proprio una lesione meniscale e si è fatta anche tutta una raccolta fluida meniscale attorno, che poi va anche a distribuirsi lungo il profilo del femore. È una cosa che si vede, quindi prestate attenzione se iniziate a vedere della anecogenicità vicino a un corpo meniscale che non sia particolarmente normo rappresentato, scorrete bene, scorrete bene anche superiormente e anche inferiormente, per vedere come si è evoluto l'eventuale raccolta fluida. Infine, ve lo nomino, però in realtà la quantità di volte che noi andiamo a valutare il legamento anterolaterale sono pochissime, sarò sincero, nel senso che se abbiamo un quadro in cui c'è un'alterazione del legamento anterolaterale, vuol dire che si è alterato un sacco di altra roba, e vuol dire che è molto probabilmente qua ci serve anche una risonanza magnetica per una valutazione corretta. Vi segnalo solo che esiste, che lo troviamo praticamente all'altezza della tibia, vi siete fatti la vostra Z, rispetto alla Z riandate indietro, quindi gli aggiungete un'altra cosa obliqua, tra virgolette, un'altra area obliqua, per vederla, però il ginocchio deve essere piegato non più a 30 gradi, ma quasi a 90, quindi glielo dobbiamo far portare più in su. Perché ci interessa saperne l'esistenza e sapere che se devo valutarlo devo far piegare la gamba a 90 gradi? Perché di solito a questo livello troviamo anche il nervo peroneo comune, che sta dietro al bicipite femorale, che di solito lo vediamo meglio sull'asse corto, ma io se devo valutarlo lo vado a valutare sul comparto posteriore. A livello del comparto posteriore vi do qualche riferimento, allora ovviamente a questo punto facciamo girare la paziente a pancia in giù, quando è a pancia in giù appoggiamo la sonda a livello della piega del ginocchio e quando l'abbiamo appoggiata cerchiamo come punto di riferimento la superficie del condilo femorale mediale, quindi dovremo vedere una superficie rotondeggiante, eccola qua, qui si osserva piuttosto bene, questo è il condilo laterale, questo è il condilo mediale, come vi orientate fra mediale e laterale, se avete posizionato la sonda giusta dovrebbe essere piuttosto facile vedere qual è la parte mediale della paziente o del paziente e qual è la parte laterale, quindi voi vi appoggiate in centro alla piega, cercate i condili come riferimento prima ancora di valutare tutto, cioè orientatevi, quindi cercate i due condili, vi spostate un po' di più verso quello mediale, quando siete verso quello mediale, quello che dovreste riconoscere sono il fatto che lì avete una serie di tendini di cui vi parlo tra un attimo, i tendini mediali, ma prima ancora, prima cosa che dovreste cercare è vedere se c'è una cisti di Baker o Baker, no Baker credo, io ho sempre chiamata così, non toglietemi questa certezza, perché? Perché il collo della cisti dovrebbe decorrere in stretta adiacenza il condilo femorale mediale, ecco perché siamo tornati qui, quindi vedete che qui abbiamo il condilo femorale mediale che è circondato da un'area anecogena che è liquido, una piccola area anecogena ci può stare, ok? Perché è un minimo di liquido articolare di distensione. Qua guardate quello che vi ho raccontato quando abbiamo parlato dell'ecopartimoli sinoviale, qui vedete il colletto, questo qui, adesso dai ve lo ingrosso anche così lo prestate meglio, questo qui è il collo della cisti, abbiamo detto che cercano un locus minore resistenza e quindi una zona dove può penetrare, una volta che è penetrata e trova spazio e poi si espande come meglio può, quindi vedete che ha fatto un collo un po' più grande, perché? Perché lì magari di qua poi era premuta dal muscolo, quindi non aveva tanto posto, di qua dalle strutture tendine quindi non poteva allargarsi, quando poi ha trovato libertà si è espansa ancora di più, ok? Quindi infatti vedete tendine, tendine è ben rappresentato qua, ho trovato una bella immagine e qui il gastrocnemio, quindi si è creata a posto laddove c'era questa cisti di Baker. Quindi la prima cosa da valutare quando ho girato il paziente e ho passato in giù è vedere se c'è una cisti di Baker, ok? E abbiamo capito come trovarla, quindi sono in orizzontale, mi sposto verso il condilo femorale mediale, guardo bene, sono quindi più interno rispetto ai vasi del poplite, rispetto a arterie vena poplite, eh? Dopodiché se non ho trovato la cisti di Baker, o anche se l'ho trovata, posso cercare i miei tendini mediali, che tendenzialmente sono in tre, cioè il tendine gracile, che è questo qui, quindi avete il muscolo sartorio, ok? Siete sempre a livello del condilo femorale mediale, avete visto il gastrocnemio dove si trova, se c'è la cisti di Baker abbiamo detto che viene fuori da qui, cioè tra il gastrocnemio e i tendini, in particolare i tendini come sono risposti? Sono interni rispetto al muscolo sartorio, quindi come riferimenti abbiamo sartorio e il gastrocnemio, e tra i due vado a individuare da mediale a laterale il sartorio solo come muscolo. Il gracile, che è questo qui, che lo vedete un po' bianchetto, è normale che sia così, e il semi tendinoso, che invece lo vedete un po' più scuretto, e anche questo è normale che sia così, ok? Li controllate, li girate sull'asse lungo se riuscite, di solito questi qui li seguite molto bene in asse breve, molto male in asse lungo, sinceramente. Però, ripeto, anche in questo caso qui, se avete lesioni qui, vuol dire che ci sono casini anche da altre parti, e quindi, insomma, cambia la faccenda. Se c'è il sospetto di un qualcosa che sia vascolare o nervoso, fate anche la valutazione. Beh, il fascio vascolare è piuttosto semplice, quindi rispetto al gastrocnemio stavolta vi spostate verso l'esterno, lateralmente, e vedrete la vena e l'arteria, col CUS, quindi con la ecografia in compressione, mi potete comprimere la vena e potete dimostrare l'arteria, perché è vero che di solito l'arteria è quella più profonda, però esistono tantamila varianti anatomiche e per me, fino a prova contraria, la CUS vince. Quindi, io premo, così sono sicuro di sapere qual è la vena e qual è l'arteria. Peraltro, quando avete il paziente girato così a pancia in giù, non l'ho scritto, anche in questo caso, perché non volevo creare allarmismi, però, con la sonda adeguata, col paziente adeguato, siete fortunati, riuscite a vedere l'inserzione del crociato posteriore. Per vederlo, il consiglio è quello di far piegare la gamba e vedete che, vedete questa banda sottile ipoicogena che si va a inserire sulla tibia. Ovviamente ne vedete la parte caudale, il solito discorso, ok? Questa è l'immagine normale, se è un'immagine patologica, avrete delle raccolte. L'altra cosa, quando siete qua dietro, molto in profondità, cioè tra la superficie ossea femorale e la superficie ossea della tibia, se magari, allora, piegando, vedete l'LCP, ma se non mettete, se non fate piegare l'LCP, non lo vedete, vedete del grasso dentro, dovreste vedere bianco, ecco, qua si vede. Qui vedete che la freccia vi rappresenta come non ci sia del bianco, cioè del nero, il solito discorso. Qui, in fosse intercondiloidea, dove normalmente c'è del grasso, c'è un qualcosa che rende il grasso non omogeneo. In questo caso, per dirvi, era un ematoma, ok? Quindi questo è un segno indiretto di lesione del legamento crociato anteriore. Torniamo al discorso di prima, cioè se ho una clinica suggestiva per il crociato anteriore, sono sullo studio di comparto anteriore, non sono riuscito a vedere il crociato anteriore, giro il paziente posteriormente, metto la sonne, in questo caso vi serve una frequenza forse un pochino più bassa, 10-12 MHz, non oltre, perché andiamo parecchio profondi. E a livello della fossa infercondiloidea, voi vedete una ipoecogenicità o comunque una disomogeneità ecostrutturale, pensare che ci sia una lesione del crociato anteriore diventa mandatorio. E quindi, se io non sono stato diagnostico, mi serve la risonanza magnetica, senza ombra di dubbio. Ok. Ultime cose che andiamo a valutare sono l'angaro postorolaterale, che sapete che ha tutta un'anatomia veramente complessa in risonanza. In ecografia cosa andiamo a valutare? Allora, intanto vi metto in area postorolaterale. Quindi siamo in quelle zone che io ho messo nel comparto posteriore, qualcuno le potrebbe mettere nel comparto laterale, capiamoci. Perché vediamo di nuovo il bicipite, che ne abbiamo parlato anche prima, quindi non mi ci fermo ulteriormente. Quello che volevo farvi vedere è che a volte, soprattutto se la fate da posteriore, da posterolaterale, potreste vedere anche la fabella, lo sfabelle. Anche in questo caso avere l'RX ci aiuta, perché? Perché se c'è un osso accessorio che è una variante anatomica, sapere che esiste e avere l'RX che me lo conferma mi lascia molto tranquillo. Se invece non lo vedo in RX, probabilmente quella è una calcificazione che ha un altro significato e ci devo ragionare. Anche in questo caso sul bicipite vi ricordo la valutazione dell'aggiunzione minotendinia come punto principale per tutti i discorsi che abbiamo fatto prima. Da ultimo, se volete valutare il nervo peroneale, il percorso da fare è questo qua che vedete sotto. Anche in questo caso, diciamo che è un quesito clinico particolarmente specifico, quindi il paziente vi arriva che molto probabilmente ha già eseguito un'elettromiografia e c'è proprio scritto che voglia una valutazione del nervo peroneale. Anche in questo caso, eventualmente, se avete il sospetto che ci sia qualcosa del nervo peroneale, conoscere un po' di esami clinici può aiutare. Il fatto sta che il consiglio è che vi spostate praticamente verso l'alto e mi è andata a trovare l'origine del peroneale o peroneo comune, dite come volete, dal nervo sciatico. Dopodiché, mano a mano, scendete, lo seguite sull'asse breve perché è molto più semplice, vedete sempre un ovaletto, i nervi sono fatti così, sono questi ovaletti che hanno delle parti nere, che sono i fascicoli, e delle parti bianche che rappresentano piuttosto la presenza di mielina o quant'altro. Ne potete misurare la superficie sul piano assiale, che è un criterio diagnostico per la valutazione di una neuropatia, e ne guardate l'ecostruttura tendenzialmente, e poi lo andate giù a seguire fino alla sua biforcazione. Ripeto, la valutazione del nervo peroneale è molto, 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 molto specifica, ecco, non è una cosa proprio da esame standard. Con questo abbiamo visto la checklist di riflettazione dell'ecoginocchio e io vi aspetto al prossimo video.